Affido a Maria, Regina della Pace, la sorte delle popolazioni afflitte da guerre e conflitti, in particolare in Medio Oriente. Tante persone innocenti sono duramente provate, sia cristiane, sia musulmane, sia appartenenti a minoranze come i giazzidi, i quali subiscono tragiche violenze e discriminazioni. Alla mia solidarietà si accompagna il ricordo nella preghiera, mentre ringrazio quanto si impegnano a sovenire ai bisogni umanitari. Incoraggio le diverse comunità a percorrere la strada del dialogo e dell'amicizia sociale, per costruire un futuro di rispetto, di sicurezza, di pace, lontano di ogni sorta di guerra. Grazie